Lady Carla, ex fidanzata del rapper Simba Larue ed ex amica strettissima con Gaia Bianchi ha realizzato una diretta dove rispondendo a delle domande ha dichiarato che Simba Larue, mentre erano fidanzati, l'ha tradita con Gaia Bianchi confermando quindi la teoria che Gaia Bianchi e Simba Larue potrebbero starsi frequentando in questo momento e inoltre facendosi prendere anche un po' dal momento e giustamente rispondendo alle domande delle persone in chat perplesse ha anche confermato la precedente frequentazione di Gaia Bianchi con Shiva dicendo anche che Gaia ha dato l'indirizzo di Rondo a Shiva e al suo gruppo tanto che c'era anche una teoria che girava in rete e visto che Rondo in una barra disse una tiktokere puttana ha detto ai miei ops dove abito e quindi potrebbe effettivamente trattarsi di Gaia ma non aggiungo altro e vi lascio i best moments della diretta di Lady Carla che fra l'altro quest'ultima attualmente si sta frequentando anche con un rapper big francese fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate noi ci vediamo in un prossimo video, linea allo studio come mai non ti seguo più con Gaia Bianchi? eh perché la mia amica Gaia ha pensato bene di scoparsi il mio tipo eh vabbè ragazzi quando ho una infame nell'anima magari non stava con Shiva eh vabbè con Shiva, con Rondo, con il nemico, del nemico, del nemico ormai si è rifatti tutti fra un po' si fa anche il nemico di Simba vabbè per non parlare della roba di Rondo cioè Rondo l'amore della sua vita e poi finisce con Rondo e poi Shiva il suo nemico, l'amore della sua vita e poverino Rondo cioè dopo che gli ha snicciato la via di casa l'ha quasi fatto ammazzare e cioè dei suoi nemici un altro torto l'ha ucciso il tipo scopato anche Bor, vero? poi faceva tanto l'amica di Roberic la tipa ha tanto giudicato Roberic gli faceva tutta l'amichetta per hype almeno le altre si sono tutte come dire cioè lei ha sempre fatto la paladina della giustizia l'amica perfetta l'amica tradita quella che tutte le amiche la tradivano si scopavano i loro tipi tutti i suoi tipi se le scopavano tutte le sue amiche tutte erano gruppi e poi io odio il finto buonismo raga ve lo giuro cioè io il finto buonismo lo odio